Come è un fondo di fondi promosso dalla Zinnova? Questo perché l'investitore è abituato a investire in modelli di business più semplici, più tradizionali, il cosiddetto modello lineare dove al termine della produzione e del consumo si utilizza il bene. L'economia circolare invece prevede anche dei costi impliciti, aggiuntivi, pensiamo per esempio a tutta la logistica di ritorno, il bene una volta prodotto e consumato, secondo gli approcci dell'economia circolare dovrebbe ritornare in fabbrica per essere riutilizzato, per essere reingegnerizzato o comunque mantenuto o al limite dismesso totalmente. Ebbene gli investitori istituzionali non sono ancora pronti per comprendere questa tipologia di investimenti e quindi ben vengano strumenti come quello di fare venture che fa leva su capitali pubblici, in particolar modo i fondi di origine comunitaria, i fondi FESR e POR per lavorare in maniera sinergica con i capitali privati, quelli che sono più portati a valutare magari modelli di business più tradizionali, quindi capitali pubblici, capitali privati in una logica di sinergia per poter coprire tutte le aree di investimento tra cui anche quelle ad impatto con l'economia circolare.